diciamo che per noi è faticoso lavorare così perché comunque dobbiamo indossare mascherine visiere col fono ci si affannano quindi è molto molto faticoso stiamo ripartendo prendendo tutti appuntamenti scaionati e ovviamente pregando alle clienti di venire tutte puntuali già sono venuti a controllarci c'era tutto regola stamattina abbiamo fatto sanificazione e abbiamo diviso abbiamo messo il plexiglass in cassa al lavaggio diciamo disinfettanti poi ecco diamo un kit alle clienti compreso di mascherina e guanti o in ogni postazione sia in cassa che al lavaggio ci sono disinfettanti per le clienti e per il momento bene poi ecco abbiamo aperto stamattina sono preoccupata perché comunque i primi giorni ovviamente le clienti si devono anche abituare sperando che ritornino tutte cioè ritorni tutta la normalità